Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in zona concattedrale, alle spalle della concattedrale, dalle parti di via Blandamura. Una zona, uno snodo, un angolo particolarmente degradato e pericoloso. Intanto, uno specchio d'acqua, che vedete, non siamo a Venezia, ma questa zona, completamente abbandonata a se stessa, senza asfalto e tutta sterrata, ovviamente non fa altro che raccogliere acqua su acqua. Qui poi c'è tutto un contenzioso circa l'appartenenza, la proprietà dell'area alle spalle della concattedrale, ma al di là di tutto, dei vari contenziosi decennali, qui il problema va risolto e l'amministrazione comunale si deve fare promotrice della soluzione del problema. Non si può vivere in queste condizioni. Quindi già qui abbiamo un quadro da palude, fra poco usciranno anche le rane, ma basta vedere anche poi, a pochi metri, abbiamo questo angolo davvero pericolosissimo, perché c'è il doppio senso di marcia, macchine che vengono sia da un lato sia dall'altro e qui si gioca all'autoscontro. E Dulcis in fondo il manto stradale, lo vedete, distrutto e praticamente, guardate, sembra un mosaico per com'è spacchettato. E poi c'è anche una bellissima buca. Assessore Lonoce, quando si muoverà per far riasfaltare questa strada, lei che tanto parla di lavori pubblici. Assessore Lonoce, questo è un angolo, qui passano le macchine, ma cosa dobbiamo fare? Assessore, dobbiamo giocare a golf? Una bella mazza da golf e andiamo in buca. Quelli che siamo stati veramente bucati, siamo noi cittadini, noi paghiamo le tasse, le nostre tasche vengono bucate e abbiamo questi scempi urbani.